Avvocato Sicari parte nel nuovo corso del Teatro Marrucino, nuovo CDA, diceva il Sindaco non è più tempo di contributi pubblici, sarete costretti a lavorare con ristrettezze economiche rispetto al passato? Saremo costretti a lavorare con i soldi che la mano pubblica è in grado di offrire in ragione delle condizioni economiche dell'intero Paese, della Regione, del Comune. Sono certo che fino a che non avremo fatto i passi necessari per la trasformazione e per l'individuazione della migliore delle formule che possa condurre il privato ad attrarsi verso la cultura in maniera adeguata ai costi che la cultura deve affrontare, la mano pubblica sarà vicina e ci condurrà e ci sosterrà nella misura adeguata e necessaria. Il futuro è la fondazione? Io questo non lo so, nel senso che il futuro lo deve decidere in realtà la proprietaria del bene che è il Comune, ma l'affermazione, se si tratti di fondazione, di società o di altra formula giuridica, è un problema che va affrontato con serietà e come ho detto prima nella conferenza stampa, credo che bisogna guardare a quelle che sono le esperienze che già sono in atto per trarre convincimenti che siano le esperienze migliori, ovvero se ci siano dei correttivi da apporre per trovare la migliore delle soluzioni alla scatola che si vorrà costruire in futuro. Grazie. Grazie 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 Grazie